spesso per un uomo non è così semplice completare il proprio abbigliamento ikea ci permette in questo caso di inserire un comodissimo cassetto estraibile che permette all'uomo di aver tutto sotto controllo in questo senso sceglie il pantalone sceglie la camicia sceglie la giacca e per completare sceglierà poi la cintura sceglierà poi gemelli la cravatta tutto all'interno dello stesso spazio